Musica Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi. Parliamo del mondo del lavoro, parliamo delle profonde modifiche che ha subito anche per coloro che hanno continuato a lavorare normalmente a causa del Covid. Sappiamo ci sono tantissimi che purtroppo sono a casa, tantissimi in questo momento hanno dovuto chiudere la propria attività, ma ci sono tante aziende che hanno radicalmente modificato l'organizzazione aziendale, nel bene, nel male, le necessitate, quali sono le conseguenze, quali sono le loro ripercussioni sia di carattere fisico ma anche psicologico. Molti di voi ci hanno sollecitato al riguardo, soprattutto quando si parla di smart working per un'organizzazione non sempre perfetta. In questo caso non potremo parlare del discorso degli insegnanti, dedicheremo un capitolo con i nostri ospiti della CISL Padova e Rovigo, ve li presento subito perché ci vorrà il responsabile della funzione pubblica, ma lo faremo. E allora ben arrivata Francesca Pizzo, segretaria territoriale CISL Padova e Rovigo. Grazie di essere qui con noi. Bene arrivato Samuel Scavazzini, segretario generale CISL Padova e Rovigo. Buongiorno a tutti e a tutte. Benissimo, allora, l'ho preciso perché mi è venuto in mente prima che ci hanno scritto alcuni insegnanti, un gruppo di insegnanti dicendo dovete parlare del nostro lavoro, adesso che siamo più che mai costretti in DAD, ma riguardo alla funzione pubblica questo. La CIS scuola. La CIS scuola, verrà anche la CIS scuola a questo punto. Assolutamente sì. Accontenteremo anche i nostri telespettatrici. Allora, cambiamenti del mondo del lavoro. Ormai è un anno, proprio festeggiato tra virgolette oggi, e la situazione sembra precipitare, per cui chi aveva ripreso anche a frequentare i luoghi di lavoro deve ritornare, in molti casi smart working, e bisogna che più che mai le normative vengano rispettate. Cos'è successo? Allora, qua appunto è proprio un anno che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il Covid una pandemia. Quindi già l'anno scorso eravamo anche in lockdown, che era partito proprio il 9 di marzo. Quindi questo triste anno, purtroppo dopo un anno forse uno dice, ma siamo ancora al punto di partenza. Il problema abbiamo visto tra varianti, tra quello che è e quello che non è. Però il mondo del lavoro ha sempre risposto presente, e anche in maniera positiva e propositiva. Ricordo i protocolli fatti. L'ultimo, importante, è del 24 aprile dell'anno scorso, per la gestione dell'emergenza Covid, proprio sui luoghi di lavoro. Ha funzionato e sta funzionando in realtà, quindi anche lì ci sono state delle direttive, delle modalità, dei modus operandi, dei movimenti, mascherine, distanziamento, tipologia anche di lavoro, come fare, come non fare, premesso che c'è già comunque le leggi sulla salute e sicurezza in luoghi di lavoro, in questo caso ha ampliato rispetto a questo problema grosso e doloroso. Ovviamente per i vari comparti, perché la sanità ha una problematicità, una fabbrica metallomeccanica ne può avere un'altra, l'agroalimentare un'altra ancora. E quindi insomma c'è stato comunque un rapporto molto intenso e importante, e anche dato, bene o male, dei risultati da un punto di vista anche di contagi. Certo, ci sono stati dei posti, immagino le RSA in primis, lì c'è stato un picco mostruoso all'inizio, però ad esempio nei posti di lavoro, proprio cluster, come venivano chiamati all'interno di fabbriche, le contiamo veramente sulle dita di una mano, parlo ovviamente qua del territorio Padova-Rovigo, ma potrei anche dire del Veneto. Quindi in realtà la figura del Covid Manager, tutta la formazione anche che c'è stato, c'è stato un impegno veramente fatto, molto importante, un impegno sostenuto da parte delle aziende, perché bisogna riconoscerlo, da parte delle aziende e da parte anche di lavoratori, e quindi hanno avuto tutti la giusta sensibilità che purtroppo questo gravissimo problema ha. Adesso la questione, c'è anche il logo dietro di me, dietro di te, su vacciniamo il lavoro Veneto, questo è un altro passaggio importante, perché qua la CISL in questo caso non sta dicendo vacciniamo forzatamente, la questione è molto semplice, secondo noi è una cosa etica da fare, ovvio che se è una cosa che tutt'al più deve essere lo Stato che deve fare una legge, un TSEO. Questo è bene precisarlo. Certo, quindi non è una cosa, quindi lo dico, ma lo ha detto anche il nostro Segretario Generale, la CISL non si metterebbe certo di traverso su una ipotetica legge, però sia ben chiaro che anche qua la vaccinazione non deve essere fatta in batteria, pronti dentro uno o dentro l'altro, a prescindere da quando arriveranno i vaccini. Ovvio che chi ha determinate problematicità, immunodeficienze, queste cose qua, è ovvio che allora lì non devono farlo, ma questo per me è la palissiana, questo ragionamento insomma, quindi è proprio per evitare anche certi... Ecco, questo proposito era sorto all'inizio, però in realtà poi si ripresenta ciclicamente, quando si parla di luoghi di lavoro, anche perché poi il Presidente degli Industriali si era pronunciato favorevolmente di portarlo nelle aziende per evitare blocchi dell'attività lavorativa, soprattutto in certe realtà, perché poi vabbè, una volta che si ammala uno, non è facilmente anche diffondibile il virus, e la paura di alcuni di fare il vaccino, un certo vaccino, e essere costretti a farlo, perché altrimenti si metteva in discussione il posto di lavoro. Parliamo nell'ambito soprattutto della sanità e del sociale, le famose RSA, non nella zona di Padova... Sì, lì ci sono stati anche gius lavoristi che hanno detto questa cosa, nel famoso articolo della Costituzione italiana, ma lo Stato attuale, cioè solo il governo, non solo lo Stato, ripeto, può attuare un TSO, non è che se uno non si vaccina, anche dal punto di vista nostro come ufficio legale, vertenze, non è... In questo caso non è... Ripeto, per la CISL sarebbe etico e giusto vaccinarsi, quindi sicuramente però in un piano molto più, quanto meno di informazione, rispetto a chi appunto si deve vaccinare, quindi la vaccinazione ci sta assolutamente, però all'interno di una formazione e informazione rispetto, ma questo vale tanto per l'anziano, tanto per il lavoratore, tanto per il cittadino, anche lì comunque la questione magari di utilizzare, non so, le aziende, le fabbriche per le vaccinazioni. Sì, è interessante, però allo stato attuale, per quei pochi vaccini che abbiamo, dobbiamo tenere presente anche che non è così immediato, nel senso, faccio una battuta, anche io posso dire, le sedi CISL le tengo aperte per vaccinare, ma attenzione, la gestione dei vaccini che devono essere tenuti con dei... a meno 300 gradi sotto zero, cioè io non ho questi strumenti, per dire quindi anche qua, probabilmente bisogna fare dei posti, magari aumentarli, in più diversi diversificati nella zona, nelle zone di Padova, di Rovigo, dell'Italia, affinché appunto soprattutto le categorie più deboli, anziani o indigenti, o quantomeno chi ha delle immunosuppressori, quello che è, possano andare senza farsi 100 chilometri a farsi la vaccinazione. Quando vengono chiamati. Buongiorno, l'unico cambiamento per me è che sono in cassa integrazione da mesi, con stipendio da fame. Allora, il problema della cassa integrazione, che sottolinea il rispettatore, si è presentato più volte, devo dire la verità, tanti ci hanno chiamato e ci hanno anche scritto, sollecitando un intervento anche da parte del sindacato, dicono che fanno presto a decidere di chiudere tutto, però poi non pensano a quelli che sono in cassa integrazione, c'è chi non la riceve, anche puntualmente ci sono degli arretrati. Voi come sindacato avete riscontrato nel territorio di vostra competenza situazioni analoghe, che fa parte dei cambiamenti. Allora, ci sono dei casi, però devo dire la verità, in Veneto abbiamo anche fatto scuola, questo grazie anche all'Inps regionale, in primis che ha dato le direttive alle varie Inps territoriali. c'è stato qualche rallentamento e sicuramente sarà da riprendere, ma con un ragionamento che stanno già facendo col Ministro Orlando a Roma, per una cassa integrazione universale, anche più snella da un punto di vista burocratico, perché è vero che ci sono stati certi intoppi che li riguardava magari o la comunicazione del Liban, quindi dove fare, dove effettuare il pagamento, o vuoi magari certi dati sull'artigianato, in questo caso penso l'FSBA, in cui ci sono stati dei problemi, ma non tanto dalle associazioni, quanto piuttosto da consulenti del lavoro, che magari mancava qualche modello, un D06. Lì bisogna fare sicuramente, sburocratizzare, renderla molto più snella, e quindi far sì anche che appunto il pagamento arrivi, certo tenendo presente, ovviamente in questo caso, perché dico così? Perché attenzione adesso faccio, non devo evitare che qualcuno pensi, quel reddito di cittadinanza lo si è dato a pioggia, poi si scopre a chi lo viene dato, ma no, in questo caso c'è tutto un lavoro, dico sburocratizzare, il fatto del dare i soldi, per tutta la macchina, ma perché c'è un controllo, in questo caso diretto da parte dell'Inps, da parte delle aziende, da parte dei sindacati, cioè quindi non è un cittadino, una persona che chiede, fa la domanda, ecco qua io chiedo il reddito di cittadinanza, poi mi arriva, dopo fanno i controlli, che detto tra noi è anche positivo, perché se li trovano, vuol dire che i controlli li stanno facendo, quindi diciamo nel male, in realtà quindi vuol dire che in realtà, anche qua la macchina funziona all'inverso, però in realtà sta funzionando, e qua invece tutto il lavoro c'è ante precedentemente, quindi tutto il lavoro anche di capire di quante ore si sta in cassa integrazione, poi purtroppo qualche problema ci può stare, insomma anche di lavoratori, è giusto o no? Non è assolutamente giusto questo, perché è un disagio per la persona, per la sua famiglia, veramente questo. Ecco relativamente a questo, siccome mi rifaccio anche a questioni che sorgono, parlando di queste tematiche, per quanto riguarda la cassa integrazione, avete notizia voi come sindacato, visto che siete stati interpellati anche di recentissimo, per il discorso della pubblica amministrazione, pubblico impiego, di quanto durerà ancora, se ci sono state proroghe, quanto potrebbe finire, quindi il rischio di posti di lavoro, eccetera, che riguardano certe realtà? Allora, il ragionamento che si sta facendo appunto a livello nazionale, col Ministro del Lavoro, intanto si parla di una proroga, che è imprescindibile però dal sblocco dei licenziamenti e quindi dare anche la possibilità di avere la cassa integrazione, quindi questi sono due binari che viaggiano paralleli, ma devono viaggiare assolutamente in sintonia, quindi noi abbiamo richiesto, certo però, quindi continuare assolutamente il blocco dei licenziamenti e anche dare possibilità di cassa integrazione, però altre sì, come magari lo abbiamo già detto in altre trasmissioni, cioè a me o comunque al mio sindacato non interessa tenere la gente a casa, qua fa parte di un lavoro, di un tavolo molto più importante in cui rientrino anche le politiche attive, la riqualificazione dei lavoratori, anche far sì che gli imprenditori abbiano investimenti, possano fare investimenti anche per riqualificare i loro impianti, di migliorarli, perché dobbiamo ripartire, questa è la necessità e l'obbligo che dobbiamo fare, non possiamo aspettare la manna dal cielo, e quindi dobbiamo impegnarci. Allora abbiamo la pubblicità, dopo la pubblicità passo la parola a Francesca Pizzo, perché entriamo sempre più nel merito di quelle conseguenze, le repercussioni, un po' l'articolazione anche delle modalità lavorative a seguito del Covid nelle realtà aziendali, quindi tra poco seguiteci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.